Piotr Zilinski ha brillato ancora, questa volta segnando il suo secondo gol in pochi giorni, portando la Polonia in vantaggio contro la Croazia nella Nations League dopo soli 5 minuti di gioco. Il centrocampista, che attualmente difende i colori dell'Inter, ha mostrato la sua bravura concludendo con un tiro preciso di sinistro, lasciando in allerta la squadra croata fin dall'inizio della partita. Tuttavia, quella notte non tutto andò liscio per Zilinski. Al 74esimo minuto della partita, il giocatore è stato costretto a lasciare il campo dopo aver avvertito un fastidio muscolare alla coscia. Nonostante l'assenza, il che è un segnale positivo, l'infortunio ha destato preoccupazione soprattutto tra i tifosi dell'Inter, che attendono con ansia il suo ritorno in campo senza grossi problemi. La situazione lascia in apprensione i tifosi, visto che il giocatore è stato una pedina fondamentale nel progetto di Simone Inzaghi. Dopo la partenza di Zilinski, la Croazia non ha perso tempo e ha reagito con forza. Borna Sosa ha segnato il primo gol croato, seguito da Sucic e Baturina, che hanno allungato il punteggio sul 3-1, mettendo la squadra polacca in una situazione complicata. La Polonia però non si è arresa. Con molta fatica, la squadra polacca è riuscita a trovare il pareggio nei minuti finali, grazie ai gol di Zaleski e Szymanski, chiudendo la partita con un sorprendente 3-3. Nonostante l'entusiasmante ribaltamento di punteggio, resta nell'aria la preoccupazione per lo stato fisico di Zilinski. L'Inter, che conta nel giocatore come uno dei principali rinforzi in vista della stagione, tiene d'occhio l'evolversi del caso, sperando che il problema muscolare non sia nulla di grave. Gli infortuni sono sempre motivo di attenzione, soprattutto per un giocatore della statura di Zilinski, che ha dimostrato ottime prestazioni sia con il club che con la nazionale polacca. Poco dopo la partita, lo stesso Zilinski ha commentato l'accaduto, cercando di rassicurare i tifosi e la squadra tecnica. Spero che non sia niente di grave e di poter essere a disposizione domenica, ha detto riferendosi alla prossima partita dell'Inter. Zilinski ha riferito anche quello che ha sentito in campo. Ho sentito un po' di stiramento muscolare, vedremo cosa sarà. Il giocatore sarà inoltre sottoposto ad approfondite visite mediche per valutare l'entità dell'infortunio e stabilire se potrà tornare a giocare nei prossimi giorni. Questa situazione mette in allerta i tifosi dell'Inter. La prestazione di Zilinski nelle ultime partite è stata fondamentale e la sua assenza potrebbe rappresentare un'ulteriore sfida per il tecnico Simone Inzaghi, che già deve fare i conti con un programma intenso e una competizione in diverse competizioni. L'aspettativa è che i test portino buone notizie e che il centrocampista possa tornare velocemente in campo. E tu, tifoso dell'Inter, come vedi l'importanza di Piotr Zilinski per la squadra in questa stagione? Pensi che il giocatore potrà recuperare in tempo per la prossima partita? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e lascia un mi piace per altre novità sull'Inter.